Eccoci qua, dovremmo risfidarlo secondo me, ma ah no, salvataggio di livello vuol dire che per fortuna insomma ragazzi siamo, siamo qui Ah, ma, ah Miley Cyrus, Miley Cyrus, che cazzo, oh come faccio a colpirlo? Ah, vabbè ragazzi, quindi Miley Cyrus, abbiamo scoperto che in realtà, non so come si chiami lui però, abbiamo scoperto che in realtà lui è Miley, è Miley Cyrus Canta Breaking Ball, oh come cazzo fa? Ah, ma è un mostro, cioè è un mostro? Ahia, cazzo, è potente anche, è veloce anche Sia potente sia veloce Diamo lì tanti cazzotti, almeno non finisce di rompere le falle Eh, ma Rayman c'ha un'abilità di mosse unica, eh Senti là, senti che fremiti che fa Eh, io sono stato poco idiota però, eh Guarda la tua mamma, vedi, peccato Ci manca che si metta a sparare, ci manca No, se si metta a sparare mi incazzo, eh Oh, grazie, grazie mostro, ho capito che sei mio amico Ah, vedete il mostro è il mio amico Ah, chiaro, clarissimus Ahia Dai mostrino, lo so che puoi darmi anche dei loom per Per rifarmi partire la vita Oh no Sì Ah, grazie Credo che ti sia fatto te male, no? Eh, infatti sei morto Vediamo un po', quanta vita ti toglierà Quanta vita ti toglierà, dai Dai mostricino Dammi ancora un potenziamentino Anche di meno Oh, un soccorso, un soccorso Dove, dove sei? Dove siete, teens? Teens Teens, cazzo Datemi una fottuta mano, sì No, bastardo Ehi, ehi Ma che cazzo Oh, vediamo un po' che ci danno Magari ci dovessero dare qualche, qualche vita Sì Grazie mille, teens Stai zitto, imbecille Che t'ho quasi ammazzato, coglione Ah, ah, ah Grazie Cazzo, ma muori Oh, è impossibile Cioè, è facile In un primo tempo Pensarlo Mi dai il tuo Il tuo aiuto Mostrino Bastardo Vieni a me Ahia Come ti confiando Tu che hai avuto la sfortuna Di diventare la preda di Razoff Che sono io Il cacciatore Ah, lui è Razoff Mi sono Mi sono confuso con Razoff Beard Non importa Muori, cazzo Sì, sì Ce l'abbiamo fatta Ce l'abbiamo fatta Miley Cyrus è caduta Miley Cyrus è caduta Ne è rimasto solo il cappello di lei Vedete ragazzi Dentro quella pala ci dovrebbe essere Globox Infatti Ecco il mio stallone Finalmente fa le tue braccia Perfetto ragazzi Questo video è finito Da Pipero Zorbet Pipero Zorbet È tutto Ciao a tutti Finalmente siamo arrivati nella landa Comunque qui è stranamente caldo Ma aspettavo che la landa fosse spaventosa E piena di fantasmi Invece no Che gioco